Buona domenica, ben trovati in una nuova edizione del TG6 La Settimana. Partiamo da lunedì, ospiti illustri a Chieti per la diciottesima edizione del premio Prisco. Presso il Teatro Marruccino sono stati premiati personaggi illustri del mondo del calcio che si sono contraddistinti per correttezza e simpatia sportiva. Ascoltiamo. Nato a distanza di due anni il premio nazionale Giuseppe Prisco all'interno della bellissima cornice del teatro Marruccino di Chieti. Proprio il Covid si è portato via alcuni illustri componenti della giuria, tra i quali Sergio Zavoli, Gianni Mura e Mario Corso. Anche per onorare il loro lavoro svolto nel tempo, l'imprenditore e coordinatore del premio Marcello Zaccanini ha voluto proseguire questo percorso, giunto quest'anno alla ventottesima edizione. Sono grandi perché porto il nome di Peppino Prisco che era un amico di mio papà. Peppino Prisco ha fatto la ritirata di Russia insieme con mio padre, per cui c'è un legame molto ricco d'affetto. Veramente è sempre una grande emozione. Nonostante tutti gli impegni di lavoro, però ce la metto tutto affinché possa continuare questo premio il più lungo possibile. Un grande appuntamento che torna dopo la pandemia. Ne siamo davvero felici, davvero orgogliosi. È un patrimonio questo appuntamento della nostra città. Ringraziamo gli organizzatori. Ma soprattutto non è soltanto un premio in memoria di una grande persona, di un grande uomo di calcio, dagli alti valori, ma è anche un appuntamento in cui veramente fare sintesi attorno alla nostra città. Siamo davvero felici. Insieme al nostro sindaco abbiamo facilitato in ogni modo la ripresa di questo appuntamento che non soltanto caratterizza oggi la nostra città, ma la caratterizzerà anche per gli anni a venire. Premiati Oreste Vigorito, presidente del Benevento, Sinisa Mijelovic, allenatore del Bologna e Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter. Premio speciale di giornalismo Nando Martellini e la giornalista di Resport Donatella Scarnati. Premio speciale della giuria al commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Bancini, che ascoltiamo. Beh, sicuramente l'avvocato Prisco è stato un personaggio molto importante del calcio italiano per tantissimi anni. Io ho avuto la sfortuna purtroppo di non conoscerlo poi direttamente, lavorarsi direttamente, perché quando sono arrivato io, come hai detto tu, era già scomparso. Però credo, insomma, veramente è un personaggio di un'altra categoria che credo manchi molto comunque al calcio. La giuria, infine, accogliendo la proposta dell'Ussi, gruppo abruzzese e giornalisti sportivi, ha conferito uno specifico e altrettanto importante riconoscimento al giornalista Enrico Rocchi, premiato con l'opera Games 13 ideata e realizzata dall'artista Esther Crocetta. Sì, perché sono tutti maestri, molti li ho avuti anche ospiti nelle varie trasmissioni del passato e poi abbiamo rivisto il presidente Gravina e il tecnico Bancini che ci hanno regalato grandi soddisfazioni. Beh, certo, questo è il palcoscenico più prestigioso a livello abruzzese, esserci è davvero motivo di grande soddisfazione. Le ferrovie dello Stato annunciano un nuovo piano industriale con investimenti fino al 2031. Le risorse destinate all'Abruzzo ammontano a oltre 6 milioni di euro. Tra le priorità il raddoppio ferroviario della Roma-Pescara e anche infrastrutture stradali. Ascoltiamo. Oltre 6 sono i miliardi di euro che Ferrovie dello Stato investirà in Abruzzo. La società per azioni ha reso noto il piano industriale 2022-2031. Dei 190 miliardi complessivamente messi a disposizione per i prossimi 10 anni, 6,35 sono destinati a interventi in Abruzzo. È un piano di investimenti volto non soltanto ad aggiornare le infrastrutture e implementare la mobilità, ma vi è attenzione particolare alla transizione ecologica, si legge nel comunicato del gruppo, con attività di efficientamento e riduzione dei consumi. Gli investimenti in Abruzzo non riguardano le sole ferrovie, ma ridisegneranno anche le strade. Dei 6 miliardi e 350 milioni, la maggior parte è sotto la voce polo-infrastrutture. Qui sono attribuite risorse per 6,23 miliardi. Di questi, circa 4 miliardi e mezzo sono per la mobilità su ferro, in primis per il raddoppio della Roma-Pescara, ma anche per la velocizzazione della linea adriatica e il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della Terni-Rieti sul Mona. Circa 100 i milioni di euro destinati al polo passeggeri, che si tradurranno principalmente nell'arrivo di 6 nuovi treni dedicati al trasporto regionale e nel potenziamento dell'offerta da e per Pescara e in nuovi servizi di interesse regionale. Ammontano invece a 1 miliardo e 730 milioni di euro le risorse destinate alle infrastrutture stradali, tra gli interventi anche quelli sul quarto lotto della Teramo Mare. Il piano di investimenti comprende anche il polo logistica e il polo urbano. Per il primo si prevede un potenziamento e lo sviluppo di nuovi collegamenti, che dovrebbe portare nel giro di 10 anni a un incremento del fatturato anche dell'80%. Per il polo urbano invece si stimano circa 300 mila metri quadri di aree da valorizzare, con i principali progetti che riguarderanno la stazione di Roseto degli Abruzzi e ulteriori interventi, in primis sulla via verde della costa dei Trabocchi. Il Consiglio regionale d'Abruzzo ha votato all'unanimità l'istituzione di una commissione d'inchiesta sull'acqua. La commissione dovrà indagare sugli sprechi da cui dipende la carenza idrica, ma dovrà anche contribuire alla gestione delle risorse del PNRR. Oltre la metà dell'acqua immessa nelle tubature abruzzesi non arriva ai rubinetti delle case e ora la politica vuole vederci chiaro. Nella seduta di ieri il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'istituzione di una commissione che si occupi specificatamente di risorse idriche. L'Abruzzo è tra le regioni italiane che maggiormente devono fare i conti con la mancanza di acqua. La carenza è dovuta da un lato a questioni ambientali, i cambiamenti climatici hanno ridotto precipitazioni e ghiacciai. L'estate scorsa, ad esempio, fu segnata dalla siccità e le società di gestione furono costrette a razionare la distribuzione dell'acqua. Dall'altro lato però l'acqua manca perché quella che c'è va sprecata. Secondo l'Istat circa il 55% di quella immessa nelle reti di distribuzione va persa perché le tubature vetuste inadeguate perdono. Nel Chietino addirittura l'acqua sprecata supera il 70%. Gli interventi di manutenzione spesso lasciano i rubinetti a secco e comuni in diverse occasioni sono stati costretti a chiudere le scuole. Il problema però resta irrisolto, anzi peggiora. Negli ultimi 30 anni la dispersione d'acqua è aumentata di circa 20 punti percentuali. E ora dovrà pensarci la commissione regionale a tappare i buchi. L'acqua è una risorsa e un diritto di ognuno di noi ed è il dovere della politica proteggerlo con cura. Ha dichiarato a Lanza Sara Marcozzi, capogruppo dei Cinque Stelle, e lei la prima firmataria della richiesta di istituzione della commissione. La commissione dovrà verificare l'attuazione delle normative nazionali e regionali, dovrà indagare sullo stato delle infrastrutture, fognature e depuratori compresi, dovrà accertare le cause degli sprechi e le eventuali responsabilità, monitorare gli interventi e il razionamento delle risorse. La proposta della pentastellata ha trovato l'accordo degli altri gruppi consigliari. La commissione dovrà dare un contributo anche sulle prospettive, gli interventi e le risorse che arriveranno con il PNRR, ha detto il capogruppo del PD Silvio Paolucci. Il piano nazionale infatti dedica all'acqua una sezione importante di progettazione. Un lavoro, quello della commissione, che il presidente del Consiglio regionale, il forzista Lorenzo Sospiri, chiama percorso di verità, da cui dovranno arrivare suggerimenti tecnici e gestionali. La commissione sarà in carica per sei mesi a partire dalla sua formazione. Al termine di questo periodo sarà redatta una relazione sugli esiti dell'inchiesta. Il via però arriverà in base alla prontezza dei partiti. La commissione infatti nascerà ufficialmente con la nomina dei componenti, che i gruppi consigliari dovranno indicare in proporzione alla consistenza dei partiti all'emiciclo. Poi sarà convocata una prima seduta per nominare il presidente. Crollano i tamponi molecolari, ma sono alti i numeri del contagio in provincia di Chieti. Forse dovuti all'abuso di test fai-da-te che generano molti falsi negativi. Per questo la ASL mette a disposizione tamponi gratuiti per due settimane negli hub di Chieti e Lanciano. Vediamo. Iniziativa della ASL Lanciano-Vasto Chieti che per due settimane farà tamponi gratis alla popolazione. Il provvedimento preso dall'azienda deriva dall'analisi svolta dal Dipartimento di Prevenzione degli ultimi dati relativi al contagio in provincia di Chieti, dove, alla data del 15 maggio, a fronte di una discesa sensibile della prescrizione di tamponi molecolari, erano attivi oltre 5.500 casi Covid, di cui 82 ricoverati in ospedale, per una media di 714 casi ogni 100.000 abitanti. Numeri che sembrano andare incontro a quanto affermato nei giorni scorsi dal manager della ASL, Thomas Schell, l'ancora elevata circolazione del virus può essere dovuta al massiccio utilizzo di test fai-da-te di dubbia, provenienza e affidabilità, che possono generare una mole cospicua di falsi negativi, ovvero soggetti che sono contagiati, ma il test non rileva materiale virale, che, non ponendosi in isolamento, alimentano il contagio. Il direttore del laboratorio di genetica molecolare, Liborio Stupia, fa anche notare come nei tamponi fai-da-te, gioca un ruolo decisivo anche la modalità del prelievo, laddove il tampone non venga effettuato con la dovuta perizia, è possibile avere un risultato negativo semplicemente perché nel campione analizzato non ci sono abbastanza molecole virali, aumentando il rischio di falsi negativi, mai di falsi positivi. Dunque, per accertare i reali casi di infezione e limitarne la diffusione, l'ASL Lanciano-Vastochieti offre ai cittadini, residenti e turisti la possibilità di sottoporsi a testa antigenici gratuiti presso gli hub vaccinali di Lanciano e Chieti da oggi e fino al 30 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Per avere accesso ai tamponi eseguiti dal personale sanitario basterà presentarsi con la prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra oppure portando a con sé il kit per il fai-da-te acquistato su internet e canali non afferenti alle farmacie convenzionate. In commercio, fa notare l'azienda sanitaria, si trovano tipi diversi ma solo quelli venduti in farmacia sono garantiti dal Ministero della Salute. I numeri più alti del contagio si registrano nei comuni di Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, San Giovanni Teatino, San Salvo e Vasto, dove sono domiciliati la metà dei casi dell'intera provincia. Tragedia all'Aquila, un'auto accidentalmente ha travolto e ucciso il piccolo Tommasso. E' ferito altri quattro bambini di un asilo nido. La macchina lasciata in sosta da una mamma si è sfrenata piombando sul cortile dove i bambini stavano giocando. All'Aquila ha proclamato il luto cittadino. Sarà interrogata domani dal Pubblico Ministero Stefano Gallo, la donna proprietaria dell'auto che ieri all'Aquila ha travolto sei bambini, uccidendone uno. La 38enne è indagata per omicidio stradale, mentre il mezzo è stato sequestrato. Sarà ora una perizia tecnica a determinare le cause della tragedia. Ieri intorno alle 14.30 la donna aveva parcheggiato l'auto nel cortile della scuola materna della frazione Pile, giusto il tempo di riprendere i suoi due bambini. In macchina era rimasto il figlio maggiore, un dodicenne. Per cause ancora da accertare, l'auto, che ha un freno a mano elettronico, si è sfrenata, ha percorso una discesa nel cortile della scuola e ha sfondato la recinzione del giardino dove alcuni alunni stavano giocando. Il mezzo, guidato da nessuno, ha travolto sei bambini. Tommaso, di quattro anni, è morto durante il trasporto in ospedale. Due bambine sono state portate in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma. Una è ancora in prognosi riservata, mentre l'altra sarebbe stabile. Un altro bimbo ferito è al bambin Gesù della capitale e due sono al San Salvatore dell'Aquila. Tutti e tre sarebbero fuori pericolo di vita. Altri bambini si sono procurati dei graffi durante la fuga, in quei momenti di panico. Oggi nel capoluogo abruzzese, bandiere a mezz'asta, il sindaco Biondi ha proclamato il lutto cittadino. È veramente da un dolore che non si può neanche raccontare. Lo dico in parte da rappresentante delle istituzioni, in parte da padre. Ci poteva essere un qualsiasi nostro figlio lì dentro e questo è un elemento davvero struggente. Conosco personalmente i genitori di una delle due bambine che ha i gemelli. Sono persone per bene, a modo come tutte, come la stragrande maggioranza delle persone che vivono in questa città e non oso neanche immaginare cosa stiano passando in queste ore. Messaggi di cordoglio anche da parte del ministro dell'istruzione Bianchi e del governatore Marsilio. I circa 40 bambini che frequentano la scuola materna a Pile e Primo Maggio saranno trasferiti in un'altra struttura. Operazione Easy Game. I militari della tenenza della Guardia di Finanza di Popoli hanno denunciato 5 tecnici dei comuni di Piciano e Sera Monacesca che devono rispondere di abuso d'ufficio su incentivi per appalti. Ascoltiamo. Affidamenti diretti senza procedure comparative, liquidazioni con abuso di risorse finanziarie destinate all'ammodernamento tecnologico e persino autopagamenti. È il quadro emerso dall'inchiesta condotta dalle fiamme gialle di Popoli presso i comuni di Piciano e Pesco Sanzonesco, provincia di Pescara, nell'ambito dell'operazione Easy Game, per cui sono stati denunciati per abuso d'ufficio 5 responsabili dei servizi tecnici e finanziari segnalati anche alla procura regionale della Corte dei Conti per aver cagionato un danno erariale di 28 mila euro. Le irregolarità riguarderebbero appalti pubblici banditi dei due enti locali per rimediare alle recenti emergenze climatiche e ambientali che hanno colpito il territorio dal sisma dell'agosto 2016 al maltempo del gennaio 2017. Si parla di opere di interesse collettivo per la realizzazione delle quali sono arrivati alle casse locali contributi straordinari con annesso stanziamento di appositi fondi di risorse finanziarie da destinare a titolo di incentivo ai dipendenti pubblici per lo svolgimento di funzioni tecniche. Una cassa che si è trasformata in poco tempo in un tesorotto di quasi 56 mila euro da ripartire sulla base di un regolamento adottato dai comuni secondo i rispettivi ordinamenti tra i responsabili delle funzioni tecniche e finanziarie e i loro collaboratori. E' da qui che sembra sia partito una catena di montaggio che ha portato all'abuso di metà del fondo 28 mila euro di incentivi indebitamente liquidati per i motivi più disparati. Affidamenti diretti senza procedure comparative, assenza di copertura finanziaria, compimento di attività non incentivabili e non specialistiche come generici studi di fattibilità, ovvero sviamento del 20% delle somme destinate all'innovazione tecnologica o ancora mancato pagamento delle quote previste per l'IRAP, la Cassa Pensioni Depositi Enti Locali e l'INAIL. E nel team dei tecnici c'è stato anche chi, in assenza del provvedimento autorizzatore, di un responsabile terzo, gli incentivi se li è autoliquidati. Al via a Lanciano la sessantesima fiera dell'agricoltura, non solo esposizioni ma anche convegni per quella che si conferma l'evento del settore più grande del centro sud Italia. Sessanta candeline quelle spente quest'anno dalla fiera dell'agricoltura di Lanciano, una fiera che sta cambiando volto e che va sempre più incontro a quelle che sono le nuove tecnologie anche in campo agricolo. Quest'anno, per la prima volta, ci sarà la possibilità di entrare con l'acquisto di un biglietto online. In totale, all'interno dello spazio espositivo, 250 espositori che sono andati, oltre le difficoltà della pandemia e della questione geopolitica, nel reperire le materie prime. Una sessantesima edizione che è partita alla grande, una fiera dell'agricoltura che torna nei suoi mesi canonici, una fiera che si conferma leader nel centro sud Italia. Sì, abbiamo circa 250 espositori, un numero impressionante di biglietti online che siamo già riusciti a vendere, nonostante che è la prima esperienza importante in questo senso. Cerchiamo di mantenere al massimo anche i sistemi di sicurezza, con tutte le dovute garanzie. Sessantesimo anniversario non poteva che essere migliore di questo, anche con il sole che bacia in un modo o in un altro la fiera di Lanciano. Presente anche l'assessore con delega all'agricoltura per la regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, che ha parlato di internazionalizzazione dei prodotti, frutto della terra del nostro Abruzzo, e poi un messaggio a chi opera quotidianamente nel comparto agricolo. Noi crediamo che l'internazionalizzazione sia un elemento fondamentale per la nostra regione. Noi abbiamo dei prodotti che hanno un valore qualitativo enorme, però hanno un valore economico, diciamo così, il costo che è sotto la media nazionale. E noi dobbiamo essere in grado di promuoverli, di promuoverli sui mercati, soprattutto internazionali, perché lì si può trovare il giusto prezzo, che poi è quello che potrebbe rendere reale quello che è il valore, quindi la possibilità di essere economica, di reggere le aziende, di poter dare lavoro e di guardare al futuro con importanza, e l'internazionalizzazione diventa importante. Noi stiamo facendo con Arap, su dei progetti specifici, come Bracciottatore, ma stiamo facendo una grande collaborazione con le Camere di Commercio. Cioè noi stiamo cercando di costruire, ed è questa la novità, perché non si è mai fatto, un sistema che punti sull'internazionalizzazione come obiettivo principale. Questa è stata l'ultima fiera da Presidente per Franco Ferrante. Il Sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, non ha rivelato ancora il nome del successore, ma fra un punto sul futuro. Sì, sì, è stato già scelto da sottoscritto, per rispetto al Presidente, che ha lavorato all'agremente per realizzare con mille difficoltà questa rassegna, perché vedete qua anche di personale a disposizione. Quando io feci il Presidente eravamo 7-8 persone che lavoravano sull'organizzazione della fiera. Adesso praticamente una persona, compreso il Presidente, non è pensabile che si possa andare avanti così. E' stato fatto un grande lavoro, ma non è una questione politica o partitica. E' un normale turnover, anche io quando mi dimissi nel 2001, venne sostituito da altro Presidente. Ma questo vale per l'amministratore. Il Sindaco passa, la città resta, la fila di cultura resta, i Presidenti passano. E' un normale turnover del quale non bisogna meravigliarsi. Tutti i Presidenti hanno fatto un ottimo lavoro, compreso Franco. La Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Lanciano andrà avanti anche sabato e domenica dalle 9 alle ore 19. L'Università di Teramo pronta ad accogliere 42 studenti afghani. La cerimonia di benvenuto è stata presieduta dal Ministro Maria Cristina Messa. Vediamo. Un grande lavoro di squadra ha permesso di accogliere all'Università di Teramo 14 studentesse e 28 studenti afghani che frequenteranno nei prossimi anni i corsi di laurea dell'Ateneo Teramano. Il loro arrivo in Italia è stato complesso e difficile. Un progetto che ha visto l'impegno delle istituzioni locali e nazionali. A dare il benvenuto a questi nuovi universitari è stato il Ministro dell'Università della Ricerca, Maria Cristina Messa, che in collegamento da Roma ha ringraziato Teramo e ricordato il ruolo degli Atenei per quanto riguarda il rispetto dei diritti e della dignità delle persone. Che sensazione hai avuto di questa realtà appena sei arrivata? Hanno passato una sezione molto, molto tribile, che eravano sette, otto mesi solo chiusi dentro casa e non uscivano anche fuori, anche per un giorno. Per questo diciamo che siamo molto felici che siamo riusciti a venire qua per studiare. Motore dell'iniziativa l'Associazione Salam, in stretta collaborazione con i vertici dell'Università di Teramo. Devo dire un lavoro corale, un'operazione forse unica a livello nazionale, a livello internazionale, unica soprattutto per quanto riguarda il numero e unica anche per la rappresentanza femminile. Adesso questi ragazzi si devono formare e si devono integrare. Sta a noi cercare di farlo nel modo migliore possibile, ma il cuore dell'Università di Teramo è grande e lo dimostreremo anche in questa occasione. Questo progetto è un sogno che è diventato una scommessa, una sfida che abbiamo vinto. È nato perché abbiamo sentito la responsabilità di rispondere alle immagini che passavano in televisione quando vedevamo le donne e i giovani, dopo il ritorno al potere del governo talebano, che cercavano di uscire, cercavano di trovare una opportunità di vita diversa. E quindi abbiamo cercato di creare, proprio di passare dalle idee ai valori, ai fatti, alle azioni. Una scommessa vinta nonostante gli ostacoli, non solo per il nostro territorio, non solo per l'Università di Teramo, ma per l'Abruzzo e per l'Italia. Davvero una storia lieto fine per questi 42 ragazzi afghani che avranno la possibilità di condividere la cultura e le libertà occidentali. A mettere loro le ali la Fondazione Tercas, che ha sostenuto economicamente le loro spese di viaggio. Come immagine è bellissima pensare di aver dato le ali a questi ragazzi per volare, per andare oltre confini geografici, ma soprattutto confini mentali, fatti di preconcetti, di una cultura della disuguaglianza e della prevaricazione riguardo alle donne, soprattutto. E quindi una grande gioia vederli finalmente qui. Godiamo della nostra parità, approfittiamone e cerchiamo di esprimere al massimo le nostre potenzialità di donne. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, si è recato insieme ad alcuni cittadini davanti all'ospedale di Pescara. Tante le criticità che, secondo il pentastellato, si ripercuotono sulla sanità di tutta la provincia. Servizio. Un appello forte al presidente Marsiglio, all'assessore regionale, alla sanità di fare presto e fare subito, perché la sanità, i nostri cittadini meritano di più. Questa sanità non la vogliamo. Oltre 10.000 prestazioni sanitarie sospese causa Covid e non riprogrammate. Carenza di medici, operatori sociosanitari non reintegrati e lunghe file d'attesa sono criticità irrisolte all'ospedale di Pescara. Le problematiche, dice il vicepresidente del Consiglio regionale, Pettinari, dipendono anche da una medicina territoriale che non funziona. Partiamo dall'ingolfamento del pronosoccorso, pronosoccorso che non riceve quasi più, completamente incolfato perché mancano medici. Mancano medici e noi abbiamo dato la soluzione perché nessun medico vuole andare in pronosoccorso e li capiamo. Ma bisogna incentivarli di più economicamente, quindi Regione Abruzzo che governa la sanità dovrebbe incentivarli di più. Prevedere dei premialità curriculari, utilizzare l'istituto del precetto per spostare in caso di emergenza e far ruotare i medici di altri reparti in pronosoccorso e soprattutto utilizzare anche i medici che hanno dato ampia disponibilità per le esigenze aziendali assunti per l'emergenza Covid. Ma ci sono altre concause che fanno scoppiare il pronosoccorso. Intanto una medicina territoriale che non funziona perché ci sono tanti accessi inappropriati. I codici verdi e i codici bianchi non dovrebbero entrare in pronosoccorso, dovrebbero essere trattati dalla medicina territoriale. Se funzionasse però i distretti sanitari non funzionano bene, sono stati anch'essi depotenziati e declassati. Abbiamo addirittura tante apparecchiature obsolete. Una sanità lenta anche nel resto della provincia. Il depotenziamento degli ospedali di penne e popoli costringe molti cittadini delle aree interne a doversi servire del nosocomio pescarese per potersi curare. Questo, sostiene Pettinari, ha generato una situazione catastrofica. Non funzionando più l'ospedale di penne e popoli come dovrebbero, tanti cittadini delle comunità dell'area vestita della Val Pescara sono costretti ad andare a pescare. Pescara non riesce più a servire, quindi ci sono situazioni catastrofiche. Adesso parliamo di sport. Ancora nessuna novità a Teramo sul fronte societario con l'interessamento di Spinelli che finora non ha però ancora portato alla fumata bianca. A Pescara, in caso di mancati accordi, il presidente Sebastiani ha già ribadito che è pronto a ripartire. Se a Pescara, dopo l'eliminazione e play-off, si attende ancora di capire quale prospettiva ci potrebbe essere per la prossima stagione, al netto della possibile permanenza di Daniele Sebastiani come presidente, che continua a trattare la cessione in tutto e in parte del club bianca-azzurro, a Teramo qualcosa dovrà per forza di cose venire fuori, visto che continua da giorni lo stallo, perché in fondo una quadratura del cerchio non si è ancora trovata e l'interessamento dell'imprenditore Giuseppe Spinelli per il momento tale resta. Passi in avanti, pochi finora, con una tifoseria che frema e cerca di capirci qualcosa, che tuttavia resta ancora tutto da decifrare. Sembrava si fosse ad un passo dalla fumata bianca, ma lo stato attuale non pare essere in programma nessuna cessione imminente né eventuali incontri con il primo cittadino Gianguido D'Alberto. Cosa accadrà, posto che manca quasi un mese alla definizione di tutte le pratiche per l'istituzione al prossimo campionato? Possibile che nei prossimi giorni qualcosa possa muoversi. Nel frattempo, come è normale che sia, vige il più stretto riservo su quelli che saranno i prossimi passi. Altrettanto evidente che di tempo ce n'è ancora, ma non moltissimo. Anche perché qualunque trattativa, di qualunque tipo, dovrà inevitabilmente confrontarsi con il parere del Tribunale di Roma, che in questo frangente gestisce il futuro della società sportiva. Ancora troppo presto per dire come e quando si concluderà questa vicenda e se in serbo ci siano anche strade alternative da poter percorrere in caso di fumata bianca che stenti ad arrivare. O se, come emerso nelle ultime ore, Spinelli possa essere protagonista di una sponsorizzazione del Teramo senza rilevarne le quote. Tutta altra storia invece sul fronte Pescara. Anche qui però il riservo è massimo. Ma a differenza di Teramo, in caso di mancato accordo tra il presidente Sebastiani e vari gruppi con i quali stai intavolando discorsi per passare la mano in tutto e in parte, il massimo dirigente ha ribadito lunedì ai nostri microfoni che in ogni caso non avrà problemi ad iscrivere anche da solo la squadra al prossimo campionato di Lega Pro, che il Delfino stavolta non potrà sbagliare. Io se potessi chiuderei domani mattina, la data limite, ripeto, il Pescara si deve iscrivere, adesso deve pensare a fare, quando sento gente che parla a Vambra e non si rende conto di quello che c'è da fare da qui al 22 di giugno. Verrà tutto garantito? Queste cose le deve fare il sottoscritto e ancora una volta le farà. Insomma, l'estate entra nel vivo e anche le temperature, non solo quelle riguardanti le condizioni di meteo, si innalzano, trovare gli assetti per farsi trovare pronti allo start della stagione 22-23. Il tutto, mentre i play-off devono ancora designare chi raggiungerà in cadetteria su Tiro, Modena e Bari. Anche per oggi termina l'edizione del TG6 la settimana. Grazie di averci seguito, un buon proseguimento. Grazie a tutti.